e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo e breve video oggi vi spiegherò come ottenere alcune skin gratuitamente tramite una mail che probabilmente vi sarà arrivata se giocate a borderlands che sia l'1 il 2 il pre sequel oltre e vi siete registrati al servizio shift per usare le chiavi dorate le skin dei vari eventi multiplayer posta nel borderlands 3 eccetera probabilmente vi arriverà una mail come quella che vi sto mostrando adesso ovviamente controllate sempre che la mail sia da un indirizzo credibile che il sito in cui vi porta sia credibile eccetera e che non sia uno spam vi arriverà una mail del genere che vi dirà dobbiamo avere la tua conferma che vuoi ancora ricevere queste mail e se ci darai la conferma ti manderemo le skin che vediamo qui sotto cosa dovrete fare dovrete quindi cliccare su update your info e andare quindi a seguire quelle informazioni vi dicevo prima state attenti a non farvi scammare e una volta che avrete aggiunto le varie spunte che vi chiede quindi la possibilità di ricevere mail per operazioni di marketing da confermare la vostra età il vostro nome eccetera una volta che avrete completato queste informazioni potrete ricevere vi verrà scritto una notifica nel sito di shift comunque c'è scritto anche qua entro circa mezz'oretta dal completamento potrete ottenere le quattro skin della linea like follow and obey gratuitamente su il vostro gioco quindi non vi resterà che recarvi nella sezione posta nel caso le avrete già riscattate riscattarle magari in qualche caso potrebbero essere riscattate automaticamente e andando a una macchinetta del change le troverete già equipaggiabili semplice ed efficace quindi per questo brevissimo video è tutto spero che vi piacciono le skin e questo video vi sia piaciuto in questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video detto ciò era di tutto ciao a tutti